Buongiorno a Riccardo Pedicone, buongiorno Riccardo. Ma buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ma grazie a te Riccardo, allora Riccardo, io leggo dalla tua bio così che almeno non si sbagliare, perché si fa così, per fortuna adesso, una volta dovevi fare, adesso tu leggi dalla bio che c'è su Instagram e in teoria dovrebbe essere quello che l'ospite vuole far sapere di sé. Allora, tu sei writer, autore, organizzatore di eventi e full of shit però, è quell'ultima parte che vorrei capire Riccardo di cosa si tratta. Le prime abbiamo capito, quindi sei uno scrittore, un autore e un organizzatore di eventi. Volevo capire di cosa sei pieno, cosa è quel full of shit? Ma l'ultima parte è la parte più importante invece, quella in cui dimostri che non ti prendi troppo sul serio, che è una parte fondamentale secondo me. Perché dici che è così importante non prendersi sul serio appunto? Che insomma, poi un giorno ti dirò che frasi abbiamo scritto qua e non sulla porta di ingresso alla radio e quindi capirai che siamo forse dalla tua parte. Ma per me è importante perché amo vivermi le cose comunque in tranquillità, quindi già subito presentarsi dicendo autore, scrittore, organizzatore di eventi, uno ti guarda e dice sì e poi cos'altro. Allora io sono il primo che dico sì, comunque faccio questo, questo e quell'altro, ma sempre con grande tranquillità e in generale mi piace fare più cose. Perché ti ho voluto qui Riccardo? Perché qualche settimana fa hai postato un video su Instagram, un reel su Instagram dove parli di Milano e vorrei fare sentire proprio l'inizio, poi dopo me lo spieghi meglio, forse tu adesso non lo sentirai ma mi auguro ti ricordi quello che hai detto, appunto ha quasi centomila persone che hanno visto quel reel, quindi insomma dicevi questo tu. Io critico Milano di continuo e non riesco ultimamente a non vederla attraverso questa citazione di un libro di Simone Veil che è Venezia salva. Il vincitore vive il proprio sogno, il vinto vive il sogno altrui. Ecco, è come se la città ora mi apparisse per com'è, ovvero una sorta di gara a chi sogna e sogna altrui. A Milano si lavora in modo guerriero e questa forse è una delle cose che mi mette più a disagio ed è un luogo comune. E' solo che la sensazione che ho io molto spesso è che non si sa per cosa si sta lottando. E io quando lotto, lotto per far sì che la mia rivoluzione non diventi un teppismo e il mio teppismo non diventi una moda e che forse siamo contornati di un sacco di passioni tristi. E a volte penso, ma non è che forse la vera vittoria è semplicemente ritornare a sognare, semplicemente ritornare a sognare i propri sogni, scoprire quali sono i propri sogni. In tal caso basterebbe molto poco, anche perché, come diceva anche il buon Pasolini che ho qui, la lotta senza la vittoria si inaridisce. E allora, 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 che lotta dobbiamo fare? Che lotta dobbiamo fare? Soprattutto sogniamo i sogni altrui, Riccardo. Ma guarda, intanto quel video è una bellissima cozzaglia di più riferimenti, che ho fatto con grandissimo piacere, perché mi andava di portare una narrazione diversa, specialmente sui relazionarci ai ritmi di una città. Quindi portare qualche volta una narrazione, anche sui social, che è un luogo in cui, come hai visto, poi i contenuti girano, girano un sacco, portare una narrazione che spinge le persone a rallentare, e quindi provare a rallentare con il tono di voce, il modo in cui ci si esprime, e provare anche a dire una cosa che ovviamente divide, perché tra l'altro quando si parla di città, solitamente il pubblico si divide moltissimo. Sì, fatti i fatti tuoi, perché sei qui. Esattamente. Tu poi non sei di Milano, giusto? Tu sei di Bordenone, giusto? Esattamente, io sono di Friuli, Milano non l'ho scelta, mi ci sono ritrovato per lavoro, ed è stato per me un toccasane. Ah, vedi, quindi insomma. Lo è tutto. Ma infatti, Riccardo, io in questo tuo video vedo anche tanto amore proprio per Milano, in realtà. Ma certo, io credo che comunque chi vive una città, ovviamente la vive anche sotto, insomma, attraverso i due volte della stessa medaglia, cioè la vive sia con un certo disprezzo, ed è giusto così, la deve mettere in discussione, perché la città ti offre talmente tanto, ma non sempre è quello che ti offre qualcosa di positivo, e dall'altra parte invece, dopo averla messa in discussione, la deve amare per le piccole cose, per il quartiere, per lo scorcio, per le persone che incontra, assolutamente. Insomma, per parlare di una città, secondo me, bisogna inglobare all'interno del discorso tutte le sue contraddizioni, i suoi pregi, i suoi difetti. Ecco, la cosa interessante poi di tutto questo tuo bellissimo discorso è appunto anche sui ritmi e sul rallentare. E la cosa che un po' ci ha stupito, anche stupidamente in realtà ci ha stupito, ma perché non siamo abituati forse a fermarci anche noi a ragionare ogni tanto bene, è il fatto che tu sia giovanissimo, cioè tu dovresti essere quello che invece va a 300 all'ora nel nostro immaginario collettivo. Cioè, se Ambrogio Cuti, qui di fianco a me, classe 1832, che anno sei, Ambrogio, tu? Sì, sono. Più o meno, più o meno, diciamo, l'età di Garibaldi, l'età di Garibaldi più 100, ecco, cioè lui è rallentato per via della natura. Esatto, esatto. Invece ci si aspetta che appunto un ventenne, cioè sia un 3000 all'ora, salto i fossi per il lungo, come dicevano noi i nostri nonni. Invece proprio da te arriva questa richiesta anche di pensiero, di dire rallentiamo un attimo. Beh, sì, ma è essenziale, cioè che arrivi da una persona giovane è quello che effettivamente poi può smuovere, perché se me lo dice una persona molto pianzana e dico sì, vabbè, alla tua età magari rallenterò, mi fermerò un attimino. Invece è giusto dirlo a 20 anni, 21 anni, 25 anni, ma più che altro anche come promemoria. Cioè non è qualcosa che deve essere attuato subito, però indubbiamente, prendo Milano come esempio, ma in generale quando si parla di progresso, di un'evoluzione umana in questo momento, c'è un'accelerazione dei tempi formidabile, che porta con sé ovviamente anche i suoi lati negativi. E quindi io, molte volte, anche per andare contro la narrazione comune, contro i ritmi comuni, mi piace dire fermiamoci anche un attimo, proviamo a rallentare i tempi, proviamo a ricordarci dove siamo, che cosa abbiamo intorno. È un invito a vivere la realtà, è un invito a riapprezzare determinate cose. Ed è giusto, secondo me, e deve sempre di più arrivare dalle persone giovani. E allora, guarda, proprio perché è parlato di Milano, adesso ci fermiamo un secondo con una canzone che appunto nomina Milano, stiamo parlando di Calcutta con Sorriso, anzi, per gli amici, o meglio, tra parentesi, Milano, Dateo, sulla mappa, un neo Calcutta. E poi torniamo qui con Riccardo Pedicone e Ambrogio Cutti, insieme qui in diretta a Crystal Radio. Good morning, Milano! Ed era Calcutta con Milano, Dateo, che ho sentito, Riccardo, aver apprezzato. Riccardo Pedicone con noi, anzi, Ricky Pedi, no? Su Instagram, giusto? Sì, giustissimo, giustissimo. Il mio nickname da quando sono bambino, l'unico che ho usato, non l'ho mai cambiato. Ah, vedi, vedi, vedi. Ok. Invece, insomma, diciamo che anche, mi piace quando uno diventa dice da quando ero bambino, da settimana scorsa praticamente, no? Cioè, infatti, in realtà, in queste settimane, ne hai fatte di robe, però, perché, insomma, appunto, giovanissimo, ma ne hai già fatte tante. Tra parentesi, se non sbaglio, tu hai pubblicato un tuo libro, praticamente, a 18 anni, invece di fare la patente, hai pubblicato un libro, giusto? Hai fatto questo, non so capito bene. Sì, giusto. Eh, di cosa provava, aveva un bel titolo anche. Com'è che si chiama? 1 a 18 e 1 a 20. Ah, vedi? Ecco, ecco, ecco. Sì, sì, sì. 1 a 18 e 1 a 20. Il primo erano dei racconti brevi, invece il secondo, più legato alla saggistica. Una saggistica un po' sperimentale. E il titolo è L'inesatto attimo in cui siamo morti. Questo è il primo o il secondo? Qual era? Questo è il primo. E il secondo, invece, si chiama Nasco oggi. Ok. Ma com'è che, appunto, arriva questa passione per lo scrivere e soprattutto, magari l'idea, io credo che chiunque di noi, se poi facciamo un minimo di mestiere come quello che facciamo noi, anche Ambrogio, almeno una volta alla vita hai avuto in mente di dire o scrivo una canzone, scrivo un libro, ho fatto una sceneggiatura per un cortometraggio, però poi è rimasto tutto lì. Invece c'è chi lo fa. Ecco, Riccardo, com'è che poi invece c'è chi lo fa? Come arriva poi con la spinta del farlo? Eh beh, questa è una bella domanda. Se dovessi risponderti così... Aspetta che tanto noi prendiamo appunti intanto noi. Se dovessi risponderti così, ironizzando, ricordo un me di anni fa che aveva un fortissimo bisogno di esprimersi e la scrittura era la cosa che forse costava meno in confronto alla pittura o la regia che dovevo invece prendere dei materiali. Invece la scrittura non avevo bisogno di nulla perché mio nonno era cartolaio. Ah, vedi. Quindi penne e fogli le avevo a manetta. Poi in realtà se dobbiamo fare gli esistenziali... C'è una mia foto da bambino in un cassetto vestito elegante davanti a una macchina da scrivere che lì sì che sembrano Garibaldi con più cent'anni. Altro che... Quindi non saprei effettivamente trovare una nascita all'esigenza di scrivere e al passaggio da quando la scrittura poi da passione diventa anche lavoro. Io comunque non l'ho mai fatto per mestiere né lo farò mai per mestiere. Lo è diventato. Ma il compierlo per mestiere stesso non lo farò mai. Parte sempre da una fortissima esigenza e poi sta a te ascoltarti. Eh, ma quell'esigenza però ti porterà poi ma coltivamente a farlo poi diventare il tuo mestiere in un certo senso, no? Come funziona quel passaggio? Eh, come funziona? Funziona che probabilmente l'unica responsabilità di uno scrittore è scrivere bene e poi farsi furbo come in ogni campo in ogni ambito. Da questo punto di vista riprendo Milano cioè Milano è stata molto utile perché io ho creato i primi contatti dal Friuli e ho trovato la scrittura la scrittura autoriale quindi la scrittura dei podcast la scrittura radiofonica come autore e poi quando mi sono trasferito a Milano per lavoro perché avevo iniziato a creare i primi contatti e ho fatto un'assoluta follia perché sono scappato di casa completamente. A cavolo. E arrivato a Milano Milano mi ha accolto a modo suo in un certo senso e secondo me alcuni potranno anche capire cosa intende. Eh, infatti è bravo perché noi diciamo sempre io dico sempre pronto no che no i milanesi io gli dico sempre i miei cari milanesi coloro che ci ascoltano i miei carissimi milanesi sono in realtà tutti quelli che arrivano in questa città da ovunque loro arrivino che però decidono di stare alle regole molto difficili di questa città. Che cosa ti chiede in cambio Milano? Eh, comunque l'è detta giusta cioè ovvero comunque stare alle regole di questa città cioè Milano probabilmente ti richiede di tenere dei ritmi molto alti di vita e ti richiede di tenere duro secondo me in molte 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 situazioni dall'altra parte però Milano ti dà anche secondo me la possibilità di accelerare i tempi con intelligenza ciò che potresti farlo magari in quattro mesi lo fai scusami in quattro anni magari lo fai in quattro mesi ti basta incontrare la persona giusta insomma poi si parla di una carriera personale in questo caso qua però per esempio che cosa mi ha richiesto Milano? Milano mi ha richiesto di fare il panettiere i primi cinque mesi lì e questa è una cosa utissima però però scusa Riccardo cioè allora voler farlo scrittore adesso la scusa mia voler farlo scrittore iniziare come panettiere però non va bene cioè l'ha già fatto quell'altro l'ha già fatto Fabio Golo cioè non è l'ha già fatto quell'altro ma invece va bene tra l'altro io non sapevo Fabio Golo avesse fatto la stessa cosa sì sì io non lo sapevo adesso io gli voglio bene a Fabio Golo ma lo dice ogni tre per due lo ricordo quando lui appunto si svegliava devo dire che forse effettivamente se anche io mi svegliassi tutte le notti tra le tre e mezza e le quattro forse andrei avanti anche a ricordarlo sempre perché deve essere un bel mazzo deve essere no no decisamente decisamente ma sai per me era importante trovare un lavoro manuale e provare ad affacciarmi a Milano attraverso quella tipologia di lavoro lì sempre per la serie non voglio prendermi poi troppo sul serio non volevo prendermi troppo sul serio ovvero credo moltissimo nei miei sogni nelle mie ambizioni credo moltissimo nel mio coraggio però bisogna anche secondo me avere poi un'umiltà di poter trovare anche delle altre realtà in cui allenarsi allenare altre parti di sé per me era importante arrivare a 17 anni a Milano e saper battere cassa saper avere a che fare con i clienti avere un'altra tipologia di skill oltre il fatto di saper scrivere e nessuno mi aveva mai detto sai scrivere bene quella cosa lì magari è arrivata ancora dopo dimmi che erano di quelli che a scuola i temi li prendevano pure i voti bassi non ci credo io non ho mai finito le superiori qui sei in buona compagnia almeno mia non so no l'Ambrogio le hai finite tu no le ho finite che schifo l'Ambrogio devi rovinarci questo momento tra me e Riccardo però devo dire che anch'io avevo voti molto bassi nel tema sai quello italiano italiano però poi è una delle mie passioni infatti adesso è proprio l'umanistica cioè vado a rileggermi le poesie queste cose qua tu Riccardo non lo puoi sapere ma Ambrogio fa senti questa che è una trasmissione che va in onda dopo di noi e lui praticamente fa l'analisi del testo delle canzoni le interpretate fa la versione di latino più o meno nel senso andare dentro poi leggere non so i Pasolini che hai citato prima no associarlo a delle canzoni con testi anche importanti eccetera tenco poi non parliamo di tenco poi una domanda la faccio dopo facciamo così fargli una domanda poi mandiamo un po' di musica e dopo la canzone sentiamo la risposta e mi aggancio a quello che hai detto del vivere lentamente quanto è importante ascoltare oggi anziché parlare quindi silenzio e ascoltare ecco questa è una domanda interessante aggiungiamo a colui che poi in realtà tutti i giorni parla da Instagram con i video quindi c'è questa dicotomia chissà ci racconti dopo la canzone allora dopo un po' di musica sempre qui su Crystal Radio con Good Morning Milano in diretta con noi Riccardo Pedicone adesso è il momento di Tony F e Gaia e come cose con Malavita alle 8 e 35 minuti Crystal Radio Good Morning Milano 331-7853-555 il nostro numero di Whatsapp ci scrive Nello che ci dice Ambrogio di solito a quest'ora è a guardare i cantieri dell'M5 è vero è lodevole che tu abbia ospitato in radio sono gesti belli ma in effetti dopo siamo d'accordo che andiamo a vedere qua c'è un cantiere appena aperto cavolo qua c'è mi spiace c'è San Siro che non è ancora cantierizzato dopo ci arriviamo Riccardo ti auguro di non finire mai come noi lo dico a Riccardo Pedicone il nostro ospite di oggi autore scrittore organizzatore di eventi e full of shit così dice nella sua bio raccontavamo appunto insomma della tua carriera da scrittore una carriera che vede già appunto due libri all'attivo ovviamente ne arriveranno altri ne sono sicuri anche perché in questo momento tu sei in collegamento da dove io sono a Venezia in questo momento perché è per farmi un po' un ritiro un ritiro personale mi sono ritirato da Milano un mese mi sono dedicato un mese ok e scriverai questo mese sicuramente sì 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 in realtà sto scrivendo moltissimo cioè Venezia è una cosa meravigliosa che secondo me è veramente una città una città feconda per le storie vedi 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 e c'è il silenzio che dicevamo prima e c'è il silenzio cosa che a Milano ormai è così impossibile trovare sono tanti turisti però c'è il silenzio che è importante il silenzio ascoltare anche infatti la domanda era rifacciamo la domanda Alberto quanto è importante ascoltare oggi e quindi stare in silenzio ma per ascoltare anche quello che dicono gli altri perché l'impressione è quella che oggi se si parla addosso si dice tante cose però non si dice nulla alla fine si fa tutto frenicamente velocemente e vivere lentamente comporta anche ascoltare quello che dice un'altra persona ma ascoltarlo veramente negli occhi avete notato quanto poco ci si guarda in faccia quando ci si parla oggi penso che adesso c'è anche l'intelligenza artificiale che ti fa in modo che quando sei col cellulare ti fa mettere gli occhi dritti però è una cosa incredibile io quando parlo con una persona voglio guardarla in faccia ascoltarla anche quello che dici Riccardo tu sei uno che parla tanto sui social quanto devi ascoltare prima per poter parlare così tanto è tantissimo io a volte faccio fatica in realtà a fare un video in una settimana di tempo cioè io ho bisogno di parecchio tempo in realtà per parlare da solo davanti ad uno schermo anche solo per un minuto e mezzo che poi magari taglio eccetera per me è difficilissimo se non c'è l'ascolto anzi io sono venuto in realtà qua a Venezia probabilmente per ascoltare riprendendo anche quello che ha detto Ambrogio che poi è il primo passaggio per raccogliere materiale e poi renderlo qualcosa di scritto avevo bisogno di ascoltare ascoltare una lingua diversa camminare una lingua diversa nel senso che ovviamente qua si parla in modo diverso con dei ritmi diversi rispetto a Milano come in ogni città d'Italia e volevo avere una sorta di silenzio nel quale volevo sentire emergere da questo silenzio i dialoghi dei passanti delle persone magari che discutono dentro le case quando cammini per le calli senti tutto non hai una macchina non hai un clacson non hai niente che ti possa disturbare se non la voce effettivamente delle persone e a proposito di Milano tra l'altro fondai nel 2022 con tutta una serie di amici ed è un'attività che ancora è molto attiva su Milano e anzi stiamo facendo dei grandissimi lavori per la città che si chiama Noce che è un'associazione culturale che è tutta fondata sul dialogo e riprendendo tra l'altro il dialogo e una parte fondamentale del dialogo è l'ascolto il dilatare i tempi cioè noi proviamo a ridilatare completamente i tempi cioè un dialogo ad oggi dura pochissimo perché lo facciamo con un tono di dibattito ma come fai appunto anche tu per condensare tutti questi tuoi pensieri tutti questi tuoi giusti anzi ragionamenti anche sul punto del tempo e tutto poi in realtà in uno strumento come Instagram ad esempio dove più di 60.000 persone ti seguono per cercare di raccontare lì hai un minuto e mezzo due minuti forse non di più come si fa? beh ci si deve adattare al mezzo comunque e sono sicuro che adattandomi al mezzo determinate persone potranno anche seguirmi in dei contenuti futuri più lunghi più approfonditi che non vedo l'ora tra l'altro di fare sinceramente quindi c'è un obiettivo c'è un obiettivo di lungo termine più profondo beh sì a me piace comunque sempre avere un piano e quindi anche quando ho deciso di fare i social è stato sicuramente adattarmi al mezzo io fino a cinque mesi fa non li avevo minimamente non avevo non ero attivo quindi per me è stato tutto completamente nuovo ma con l'obiettivo comunque di star facendo qualcosa che poteva essere un contributo anche posso permettermi di interpretare la fatica che sta facendo Riccardo perché sta vivendo dei tempi che non sono i suoi nel senso che ai tempi negli anni 70 avevi tutto il tempo a disposizione di cercare scrivere e raccontare oggi cerca in qualche modo di fare la stessa cosa però con una frenesia che non si può è irrinunciabile e cerca di insomma di infilare una cosa grande in un pertugio molto molto stretto ed è lodevole da parte tua e penso sia molto molto difficile oggi fare quello che stai facendo ecco ci vuole molta volontà determinazione e molta capacità anche di sintesi cosa che non è non è sempre facile avere ecco la tua età molto giovane mi porta però a farti una domanda nel senso hai fatto i conti con il crescere cioè tu a un certo punto ovviamente crescerai quindi come potrai gestire la tua crescita proprio tua personale con magari i messaggi che invece stai mandando sei sicuro che rimarranno sempre quelli cambierà idea si evolveranno tra qualche notte sentiremo dire l'opposto di quello che dicevi nei tuoi primi video su Instagram hai fatto i conti con questo? Sì ma io credo che per assomigliare a se stessi bisogna reinventarsi di continuo quindi sono un grandissimo paraculo da questo punto di vista però io ci credo molto in realtà io per esempio anche con la scrittura cioè la scrittura è un gesto di coraggio formidabile io metto su carta determinati pensieri che rimangono effettivamente sono immortali cioè la poesia la scrittura è qualcosa che effettivamente sta fuori dal tempo la cosa molto interessante ed è in realtà la mia scuola di pensiero quando si tratta di scrittura è che per me ha senso ad oggi scrivere se si tiene traccia della propria evoluzione perciò se devo aspettare il fatidico giorno in cui sono sicuro delle mie idee probabilmente sarò anche sicuro di avere un sacco di rimorsi no quindi hai detto una cosa eccezionale ma è giusto il fatto che ci sia l'evoluzione della persona quindi non è un cambiare idea è normale che si neanche si dice si matura si va avanti e si cambia ma non vuol dire che la coerenza è giusta non è giusto cioè si cambia l'ambiente cambia e poi l'importante è l'immortalità forse la parola la parola chiave è quella perché qualcuno diceva che bisogna o scrivere un libro o piantare un albero o fare un figlio ecco io figli non ne ho il libro non l'ho scritto forse forse pianterò l'albero va in canta l'albero tu scrivi è una cosa molto importante è un granissimo gesto tra l'altro assolutamente visti i tempi direi di sì assolutamente semplicemente quello che dicevo è che ad oggi non ci si può rifare alle narrazioni quelle che c'erano magari negli anni 70 cioè ad oggi comunque un giovane è iper contaminato iper stimolato cioè come sono veicolate le informazioni ad oggi una qualsiasi ragazzo una qualsiasi persona di giovane età ma non solo perché io lo vedo anche su mia nonna per esempio si può cambiare idea veramente anche due volte al giorno in qualsiasi dibattito sull'attualità è difficilissimo ad oggi mantenere un'unica idea cioè vediamo talmente tante cose cioè vediamo il mondo ci alziamo la mattina possiamo essere collegati con qualsiasi posto sul globo le idee sicuramente cambiano l'importante a mio avviso è la coerenza filosofica cioè avere una un'etica un'etica un principio dei principi dei principi quelli sono irrinunciabili a mio avviso sono d'accordissimo Riccardo allora siamo in chiusura quasi quindi ricordaci un po' appunto i tuoi collegamenti come fare a seguirti ma soprattutto abbiamo parlato dei tuoi libri come possiamo fare a leggere ad averli dove li troviamo beh l'ultima uscita nascoggi è trovabile molto semplicemente sia online che nei punti vendita che ce l'hanno in catalogo su Instagram mi si trova come Rikipedi con la CKY e a Milano dall'autunno riprenderanno le attività di Spazio Noce che su Instagram è Spazio Noce e per chi volesse provare qualcosa di diverso a Milano delle esperienze che durano anche dei mesi di gruppi di dialogo training teatrali serate cinema di tutto e di più Spazio Noce è a Milano è opera a Milano quindi volentieri va bene ti sei già sappi che sei invitato qua a ottobre appena riaprite Spazio Noce sei qui in studio con noi così ci conosciamo non puoi scappare sarei molto molto contento infatti di conoscere persone di avervi qui in studio con noi un'ultima cosa mi piacerebbe che tu parlassi quando ci sentiamo la prossima volta dell'odore della cartoleria che è una cosa che mi piace tantissimo ancora adesso l'odore di cui sei cresciuto ma sai che io compro dei quaderni qua a settembre solo per annusarli? no perché penso di iniziare ad andare a scuola e li compro li annuso oppure entro in una cartoleria con una scusa e sento è una cosa incredibile penso che ne hai fatto qualche riflessione in merito a questo sono sicuro sono sicuro se sappiamo il discorso cartolino infatti forse potrebbe essere l'inizio anche perché lo stimolo di scrivere è partito proprio da lì forse abbiamo già il tema per una prossima puntata allora grazie a Borgio grazie soprattutto a Riccardo Riccardo cos'è che non ti ho chiesto che ti sarebbe piaciuto invece raccontarci? forse qualcosa legato alla scuola ah cioè? no magari una riflessione sul modo che abbiamo ad oggi di informarci studiare ma è una enorme parentesi ne parliamo a ottobre ne parliamo l'hai detto tu l'hai detto tu quindi ormai ti sei scavato la fossa da solo quindi sei qui con noi a ottobre dai va bene Riccardo grazie mille davvero di essere stato qui con noi ospite questa mattina buon ritiro so che sarà prolifico e sicuramente ne vedremo i frutti prestissimo grazie mille davvero a Riccardo Pedicone trovate su Instagram come Ricchi Pedi e appunto lo cercate anche nei vari store potete trovare il suo libro ricordaci il titolo prima di chiudere nasco oggi ora lo so ecco perfetto grazie mille Riccardo a presto ciao ciao andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui per i saluti finali Ambrogio non scappare a fra poco